e proseguiamo con la categoria numero nove categoria bevande e alimentari per questa categoria invitiamo sul palco la digital manager di Riso Scotti Lucia Reina buonasera Lucia benvenuta grazie è un piacere ci avviciniamo per bevande alimentari allora 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 vado vi lascio il microfono grazie lumination parmalat.it slash chef amarullucano.it e il pomodoropetti punto com and the winner is amarullucano.it e abbiamo un exequo exequo parmalat.it parmalat.it esatto un exequo no perché era sotto eh lo dico perché sembra che la parma mi dia del grano è vero ma non in questo caso scherzo vediamo il primo cominciamo con Amaro Lucano. Lucano. ed eccoci alla premiazione la web agency e la Tunnel Studios ritirano la scultura e il chief executive officer Federico Gualtieri e Luca Bergo ritira il diploma all'art director Chiara Beltramini per il cliente Lucano 1894 ritirano il diploma il direttore commerciale Roberto Galantini e la brand manager Letizia Vena. Ecco complimenti buonasera e anch'io vorrei dire mi manchiamo Lucano e invece una salve e ho finalmente stesso parrucchiere benvenuto grazie ciao belli come il sole venite al centro vi porto qua bravi bravi 1894 ho letto bene quindi una storia eh incredibile di un prodotto eh amato e continua a essere un prodotto eh vincente a chi va al microfono che vuol dire eh una delle parole sensate anche a a vanvera come sto facendo io dall'inizio della serata eh le donne trovano sempre anche voi che figura fate due uomini bravo cavalleria prego ringraziamo l'agenzia tunnel perché ha creato un sito meraviglioso simpatico che è possibile visualizzarlo sia in versione 1894 che è l'anno in cui è stata fondata l'azienda che la versione del sito del 1894 proprio è c'è è lì col calamaio una cosa così eh fantastico storie traduzione nell'innovazione fanno una forza incredibile chiedo chi risponde a questa domanda apparentemente seria nessuno bellissimo foto così vi voglio non perdete tempo che la vita è preziosa grazie a parte al fotografo che mi sa che viene pagato a cottimo lui eh grazie davvero complimenti grazie a tutti grazie a tutti